Buonasera a tutti, un altro applauso per favore, che parlare e suonare è una nuova in mano, questo è quello della mia voce un po' interno. Mi presento i musicisti di questa sera che accompagneranno appunto la nostra Queen, che nominierò dopo, il nostro guest Alessandro Presti alla tromba. Il dramma di questa sera è Antonio Leta, e al contropasso Davide Linguaggiano. Questa sera faremo un viaggio nel jazz tradizionale, nel mainstream, e la Queen, che qui da qualche parte, è pronta, spero di sì. Un applauso fortissimo per Roberta Sama. Grazie a tutti. 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 Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.